Siamo con la neo-assessore del Comune di Roseto, Donatella Di Cesare. Battesimo del fuoco immediato, tra nomina, primo consiglio e prima giunta, meno di 24 ore. Assolutamente sì, un fumigaccio e sereno devo dire. Sono stata colta davvero di sorpresa, innanzitutto dal sindaco che mi ha venuta assolutamente all'interno di questa giunta e anche dagli eventi, insomma, sono stata catapultata all'interno della macchina amministrativa davvero in meno di 24 ore. Contenta e onorata, tra l'altro perché, insomma, essere voluti anche e soprattutto per le dote personali di per sé è un riconoscimento. Sono arrivata in Comune a seguito delle dimissioni dell'assessore Luciana Di Bartolomeo che ha svolto un ruolo importante per il Comune di Roseto, soprattutto in questa fase del Covid, che ha comunque necessitato la messa in campo di strumenti importanti per consentire la ripresa delle attività ordinarie didattiche e quindi ringrazio, come ho già fatto in altre sedi, Luciana Di Bartolomeo e mi auguro di poter svolgere un buon lavoro, ancorché sembrerebbe solo per sette mesi. Vedremo. Assessore, si troverà a gestire due deleghe complicatine in questo periodo, quella alla scuola e quella al sociale nell'emergenza Covid? Assolutamente sì, perché non solo abbiamo il problema di consentire l'ordinario svolgimento delle attività didattiche, abbiamo anche il servizio del pulmino, dello scuolabus, che in questo momento soffre, sia per carenza di personale che per carenza anche di assistenti, proprio in considerazione del fatto che molto spesso i dipendenti vanno in isolamento fiduciario e quindi di fatto sistematicamente ci troviamo sotto organico. Poi anche per quanto riguarda il sociale, perché di per sé il Covid non fa altro che aggravare e mettere un accento sul problema degli alloggi popolari, che comunque sono una nota dolente. Assessore, una battuta politica. Con il suo ingresso in giunta le hanno detto che si è spostata a sinistra all'asse della giunta di Girolamo. Evviva, siamo contenta perché credo che il sindaco abbia voglia di ascoltare un pochino chi è particolarmente vicino al popolo, soprattutto quello più in difficoltà.